Ciao a tutti, vi faccio vedere il pacco della Kiko che è arrivato, dall'esterno è perfetto, non c'è un ammaccatore, c'è il sigillo di garanzia, ancora di tatto. Questa è una lettera, una pubblicità dei salari, ci sono anche dei campioncini, poi c'è una workshop per Kiko, carina questa idea. E poi questi sono i prodotti, allora, sono imballati, vari, direi che sono molto bene imballati. Ci sono tre pacchettini, uno, uno un po' più grande, uno, e basta. Ok, allora vediamo il primo. Ok, questi sono i smalti che ho speso, ok, il verde acido, vedo se si vede il numero, non so manco di una fila del numero, 297, il rosa peonia, questo lo aspettavo con ansia per vedere com'era, forse un po' più rosa di quanto avessi immaginato, ed è il 284. Immagino questo qui ha l'altro smalto. Questo è l'aggiorro cielo che ho preso, ma quanto adoro questo colore, è bellissimo, 295, bellissimo. Ok, gli smalti sono ok. Vediamo in questo pacco. Allora, matita per occhi dorata, è il numero 101. Poi c'è il lipstick, rougel, questo qui è il numero, vabbè, long lasting lipstick, il numero 7, che dovrebbe essere una specie di... non mi ricordo più, alla fine. Sorpresa... ah sì, è un colore abbastanza naturale, sul rosa... mh... non so definirlo, però insomma è il colore che uso io. Lo proverò più presto, questo, vedremo. Poi... abbiamo... ah, l'ombretto duo, color fair, mh... questo qui è grigio e... azzurro, no, lo conoscete perché è abbastanza vecchiotto, 205, mh... con il suo sfumino, con il suo sfumino, e poi l'altro color fair che ho preso, questo qui, ci porto dietro da praticamente quando è uscito, un paio d'anni, mezzo, che è il 38, che si chiama, non so se... non so se... mh... non c'è... non c'è la definizione, comunque è un verde con riflessi dorati, che secondo me... è meraviglioso, almeno ho visto in foto, è meraviglioso, eh sì, infatti è bello, mh... no, è vero bello, vediamo la luce, mh... sì, è lui, è lui, ok, sono molto soddisfatta, e poi ho preso due displays, il numero 10, e il numero 11, abbastanza... tutti e due molto naturali, allora, questi sono i prodotti, nel loro insieme, ho acquistato in saldi, quindi ho pagato tutto, tutto 23 euro, spedizione gratis, c'era una promozione, quindi penso di aver fatto dei buoni acquisti, e la cosa mia, più importante è che, tutti i prodotti sono arrivati sani e salvi, vi faccio anche vedere i campioncini di solare, che mi sono arrivati, sono questi, c'è tutta la gamma, in effetti, c'è un solare protezione 10, UVB UVA, ovviamente, 15, fattore 30, e poi c'è un latte dopo sole, allora, questi li proverò, e poi magari, comprerò proprio da loro, perché, mi sembrano, abbastanza curati, come prodotti, ok, questo è tutto, e alla prossima, ciao! grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, Grazie a tutti